Come va? E bentornati sul mio canale. Come sempre prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. Perché come avete visto dal video di un paio di giorni fa per quanto riguarda il reddito minimo sono stato uno dei primi a darvi la notizia quindi se voi vi iscrivete al canale e attivate la campanellina appena escono le notizie sarete i primi a sapere tutte le novità e così non vi perdete neanche un pezzo e sapete poi come gestirvi tutto quanto. Sapete che vi ho sempre detto che appunto io per una mia impostazione preferisco seguire quello che dice Tridico il presidente dell'Inps infatti tac è arrivato la notizione perché Tridico nel suo piccolo cioè piccolo più o meno perché il presidente dell'Inps comunque nel suo piccolo l'aveva già vista lunga e no invece in Parlamento continuano a parlare Parlamento parlano 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 ma alla fine stringi stringi Tridico l'aveva già detto infatti è arrivato il via libera del Parlamento europeo ad una risoluzione che riguarda proprio il reddito minimo adeguato che potrebbe fare in modo di migliorare ancora di più la situazione attuale delle persone e delle famiglie con anche l'accessibilità l'adeguatezza e l'efficacia di questo nuovo strumento inoltre questo nuovo reddito minimo europeo perché ci voleva l'Europa perché gli italiani non è che ci arrivavano da soli non ci voleva l'Europa comunque detto questo questo reddito minimo europeo farebbe in modo di garantire che le persone di oggi che sono disoccupate siano reinserite anche nel mondo del lavoro il testo che al momento non è ancora legislativo quindi non mi chiedete già come faccio a fare domanda perché quando me lo danno no allora al momento non è ancora legislativo è stato approvato con 336 voti favorevoli 174 contrari e 121 astenuti boh non so perché astenuti non so erano fuori a prendere il caffè boh vabbè erano astenuti nel testo ci sarebbe scritto così i paesi dell'Unione Europea dovrebbero valutare periodicamente i loro regimi nazionali e aggiornarli se necessario garantendo un livello adeguato di sostegno che tenga conto della soglia nazionale di rischio di povertà per cercare di creare un sistema che garantisca un tenore di vita dignitoso inoltre i parlamentari dell'Unione Europea hanno anche invitato tutti i paesi europei a sensibilizzare maggiormente gli argomenti e i programmi contro la povertà per fare in modo che siano maggiormente accessibili da più persone in pratica si tratta di un'iniziativa che alimenta l'impegno dell'Unione Europea di combattere la povertà con politiche di inclusione garantendo che nessuno resti tagliato fuori quindi se l'RDC, il reddito di cittadinanza era basato su degli aspetti che riguardavano per la maggior parte l'assistenzialismo e comunque non era stato in grado di risolvere il problema del lavoro invece il nuovo reddito minimo europeo punterebbe di più al sostegno con le politiche attive del lavoro ed è lì per quello che è un bel momento l'altro giorno era uscita la notizia di Mia se vi ricordate dove vi dicevo guardate che forse ci sarà questo nuovo sito internet del Ministero del Lavoro dove ci si dovrà registrare per cercare lavoro guarda un po' non è che quelli sentivano puzza di bruciato e hanno iniziato a dire ma facciamo un bel sito internet che magari così iniziamo a portarci avanti con il lavoro ma mistero comunque detto questo io vi ringrazio per avermi guardato ricordatevi di iscrivervi al canale di attivare anche la campanellina così come vedete appena ci sono delle novità sarete i premi a sapere tutte le notizie con questo è tutto ci vediamo in un prossimo aggiornamento sempre e solo sull'unico canale originale di YouTube il mio vi aspetto ciao grazie a tutti grazie a tutti